E' scattato l'obbligo del Green Pass per i lavoratori in tutta Italia, 23 milioni le persone coinvolte a Trieste, epicentro della protesta. L'attività portuale prosegue senza i blocchi annunciati ma a rilento. Rimane la richiesta dei manifestanti di eliminare l'obbligo della certificazione. Ha bloccato un varco al porto di Genova mentre i lavoratori dello scalo di Ancona hanno inizialmente chiuso l'accesso per poi spostarsi a manifestare davanti alla prefettura. Una mattinata trascorsa in stato di allerta nel timore che le proteste potessero degenerare dopo l'allarme lanciato dal Viminare di possibili infiltrazioni. Non sono state segnalate particolari criticità all'ingresso del posto di lavoro, molto contenute anche le ripercussioni sulla mobilità. Sotto pressione le farmacie sono stati oltre 860 mila i Green Pass scaricati nelle ultime 24 ore. Il governo difende con forza le decisioni prese che per il momento non saranno riviste. L'ipotesi dei tamponi gratuiti continua a dividere i partiti. Il prezzo potrebbe essere ridotto tra i 5 e gli 8 euro. Se ne ha già parlato a Palazzo Chigi durante l'incontro di ieri con i sindacati. Nei prossimi giorni saranno valutate altre opzioni, in particolare per le imprese con sgravi fiscali aumentando il credito di imposta dal 30 al 50%. Aumentano le vaccinazioni. Ieri somministrate 67 mila prime dosi. Nell'ultimo mese l'incremento è stato del 46% rispetto al trend previsto. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità certifica una diminuzione dell'incidenza dei casi e delle regioni a rischio moderato Covid, che ora sono tre. Tutte le altre sono classificate a basso rischio. Nasce oggi non una, ma la compagnia di bandiera. Così Fabio Lazzarini, amministratore delegato di Ita Airways. Questo è il nome scelto dal vettore che ha acquistato il logo di Alitalia per 90 milioni di euro. Ma la nuova compagnia ha già perso la tratta verso la Sardegna, su cui opera da oggi una low cost spagnola. A Fiumicino intanto la manifestazione degli ex dipendenti Alitalia. Prima udienza preliminare per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. I legali dell'ex amministratore delegato di Autostrade, Cassellucci e di altri imputati hanno presentato istanza di ricusazione del giudice Paola Fagioni. 59 le persone imputate, oltre alle due società Aspi e Spea. Le accuse vanno dall'omicidio colposo plurimo al disastro colposo, dal crollo doloso al falso. E' stato bloccato il processo agli agenti segreti egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Reggeni. Il provvedimento è legato all'assenza in aula degli imputati, dunque le carte devono tornare al giudice, che aveva ordinato il rinvio a giudizio. E' stata premiata la prepotenza del Cairo, il commento del legale della famiglia Reggeni. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. Dunque da oggi è entrato in vigore l'obbligo sul posto di lavoro di Green Pass, una misura condivisa da larga parte del Paese ma che allo stesso tempo catalizza un certo numero di proteste. Ci sono manifestazioni in corso un po' su tutto il territorio nazionale. Per fortuna in questo momento senza nessun tipo di criticità, di violenze particolari, disordine, non c'è neanche stata la temuta paralisi del settore produttivo. Allora cominciamo da quello che è il fronte più caldo, ovvero il porto di Trieste. Trieste si conferma l'epicentro della protesta contro il Green Pass. Al barco del Molo VII la mobilitazione dei lavoratori portuali coinvolge più di 6.000 persone, secondo la Prefettura. La linea dura di ieri, bloccheremo tutte le attività del porto finché il governo non revocherà il certificato verde, oggi si stemperà. I portuali presenti qui ce ne sono 800, quindi non serve fermare le persone, e dili tu non devi lavorare. Se 800 portuali sono qui fuori, vuol dire che dentro ce ne saranno la grande 100. E con 100 lavoratori il porto non lavora, ma questa è una scelta libera. I lavoratori che volevano entrare, pochi sono entrati. La protesta è stata pacifica, solo un momento di tensione quando uno dei manifestanti ha cercato di bloccare un'auto che voleva passare. Si tratta di una vecchia conoscenza del posto, Fabio Tuiac, vicino all'ultradestra, ex consigliere comunale negazionista del Covid. Alla fine il porto di Trieste funziona anche se a ranghi ridotti, fa sapere il presidente della regione Fedriga. La maggior parte dei portuali però è fuori a manifestare e con loro molti triestini, tutti a dire no al green pass obbligatorio. Secondo me oggi dovevano chiudere tutti, dal fruttivendolo, indifferente alla ditta grossa, al porto, tutti dovevano essere qua in piazza a manifestare e a far sentire la voce forte del popolo che qua le cose non vanno bene. Si protesta anche a Genova. Il presidio in prefettura reagisce così all'annuncio del porto di Trieste bloccato. E ci risulta che la maggior parte dei gru non siano in funzione. Anche qui è bloccato uno dei tre varchi per entrare in porto e il terminal traghetti. Le auto vengono fatte passare fermi i camion. Presidi anche ad Ancona. Il corteo però si è spostato in prefettura e anche lì il porto resta in funzione. Nessun blocco invece nei porti del sud. Banchine come quelle di Bari e degli altri scali pugliesi hanno il 98% di lavoratori del porto vaccinato. Questo per quanto riguarda le proteste. Come dicevamo ci sono stati dei rallentamenti, delle difficoltà. Però il settore produttivo continua a funzionare. Allora vediamo com'è andata nel resto del paese. Come è stata applicata la misura di contenimento del covid negli uffici dove questa mattina era necessario mostrare il proprio certificato verde. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dalla mezzanotte quando il certificato verde è diventato obbligatorio per tutti i lavoratori. Sono 23 milioni gli attivi in Italia. Si avvicinano con il telefonino in mano pronti al controllo del Green Pass prima di entrare in ufficio. Al Viminale le prime verifiche sono scattate alle 6 con l'inizio del primo turno. I controlli sono stati predisposti fuori dai cancelli dove il personale di servizio munito di telefonino utilizza come in altri ministeri l'app Verifica C19. Nessun assembramento, il tempo di controllare il QR code e via. Un copione che si ripete in altri ministeri e uffici pubblici con l'indicazione da parte dei questori di controllare il pass ad ogni ingresso, anche delle persone che sono entrate in precedenza e poi riuscite. Il certificato ottenuto attraverso il tampone potrebbe infatti scadere nel giro di poche ore. Qualche dipendente è costritto a tornare indietro, ma soprattutto chi ha fatto una dose di vaccino dopo aver avuto il covid e magari non ha ancora il Green Pass aggiornato. Per il resto non ci sono state particolari criticità. In alcuni uffici pubblici con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e diverse sedi del Comune di Roma sono già stati installati i totem per la verifica sia della temperatura corporea che del certificato verde. Alla Regione Lazio il consigliere Davide Barillari, Novax e No Pass, e la deputata ex Movimento 5 Stelle, Sara Cunial, entrano e restano barricati negli uffici del Consiglio regionale. Ieri si è toccato il record con 860.094 Green Pass scaricati in 24 ore, mai così tanti da tre mesi a questa parte. Aumentano i certificati scaricati dopo la vaccinazione, 223.165 contro i 188.924 del giorno precedente, ma soprattutto crescono quelli post-tampone, 632.802 contro i 360.415 di mercoledì. Farmacie sotto pressione, soprattutto nelle prime ore di questa mattina, per stare al passo con le richieste, alcune con lunghe liste d'attesa. Quelle aderenti a Federfarma sono state invitate a proporre a chi fa un tampone antigenico la somministrazione del vaccino offrendo il test gratuito nel caso in cui il cittadino accetti di immunizzarsi. Visaggio al momento molto contenuti per il trasporto pubblico. A Roma l'Atac fa sapere che ci sono poche decine di dipendenti senza Green Pass, ma i turni sono stati coperti per tempo. In Toscana nessun treno è stato cancellato, mentre per i bus i turni rimasti scoperti sono pochi. Non mancano però situazioni critiche, come a Novara, dove si registrano diverse corse soppresse e servizi a singhiozzo. E come sempre non manca chi cerca di aggirare le regole in maniera fraudolenta. La procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram che proponevano la vendita di Green Pass falsi. Se per quanto riguarda gli uffici, come abbiamo appena visto, la verifica del certificato verde è piuttosto agevole e diversa. Obiettivamente è la situazione per quelle imprese dove lavorano persone costrette al continuo movimento. Ma come stiamo per vedere, anche qui con un po' di buona volontà, è possibile il controllo a distanza. Ore 9, si varca la porta della sede di lavoro con il telefono in mano per il controllo del Green Pass. Senza non si entra. All'ATK Elevator di Cologno Monzese, Interland di Milano, è stata predisposta una postazione all'ingresso. I dipendenti sono stati avvisati da giorni. L'azienda si occupa di manutenzione di ascensori e scale mobili. La maggior parte del personale sono tecnici, impegnati in strutture esterne, in scuole, ospedali, palazzi. Impossibile controllarli in sede. Per questo è stato predisposto un software per la verifica del QR code a distanza. Buongiorno, ti chiedo di condividermi lo schermo per mostrarmi il Green Pass, per favore. Certamente. Abbiamo deciso di inserire una persona con un contratto a termine, quindi una persona esterna che potesse essere super parte. Questa mattina purtroppo abbiamo avuto dei lavoratori che sono assenti per malattia. qualcuno è assente per ferie, ma era già stata definita la cosa. Chi non è vaccinato può accedere al posto di lavoro con un tampone che dà diritto a un Green Pass di 48 ore. Lo screening è a carico del dipendente. Diverse aziende stanno invece decidendo di pagare i tamponi ai dipendenti per non rallentare la produzione e per non penalizzare chi dovrebbe farsi carico del lavoro degli assenti. Il gruppo tedesco Metro li rimborserà per due settimane. Quello che è stata la nostra scelta come Metro Italia è quella di andare incontro alle esigenze delle nostre persone per permettere a tutte le persone che avevano intenzione di fare un vaccino di avere comunque accesso ai nostri locali, perché sappiamo che ci sono anche dei tempi tecnici, dalla prima dose del vaccino alle missioni del Green Pass. 4.000 dipendenti in Italia vengono controllati con i tablet, anche gli esterni, autotrasportatori nei magazzini, addetti alle pulizie. La richiesta del rimborso dei tamponi è partita dai sindacati. Vedo che c'è una parte importante di persone che hanno fatto magari il vaccino in ritardo, quindi non hanno ancora oggi, il 15 ottobre, potuto avere il Green Pass ottenuto tramite il vaccino, ma gradualmente più o meno le persone credo che si adeguino rispetto a questa situazione. Questa mattina i controlli nella maggior parte delle grandi aziende si sono svolti senza criticità, code però i tornelli alla ex-ilva di Taranto. Proteste per la richiesta ignorata di tamponi a carico delle aziende, Confindustria resta ferma su una posizione contraria. La Fiam dell'Emilia-Romagna ha indetto per oggi uno sciopero a fine turno, scioperi in ordine sparso anche in Veneto, alla Zoppas nel Trevigiano e alla Electrolux e in Piemonte. In merito ai fatti di sabato scorso è stato dunque confermato l'arresto dei leader di Forza Nuova, responsabili dell'attacco alla sede della CGL. E questo in giorni che sono ad alto rischio per quanto riguarda l'ordine pubblico. Abbiamo appena visto, ci sono molte manifestazioni in corso. Il Viminale è stato fortemente attaccato dal centrodestra, in particolare la ministra Lamorgese, secondo Giorgia Meloni, colpevole di non avere saputo o addirittura, dice Meloni, di avere voluto non contenere queste violenze di sabato scorso. Insomma, oggi comunque per le forze di polizia è una giornata ad alto rischio. Il Viminale prevede una giornata ad alta tensione. In tutta Italia sono state convocate manifestazioni di protesta contro l'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro. Proteste finora senza incidenti. Qui siamo a Piazza Santa Maria Novella, a Firenze, dove più di un migliaio di persone hanno partecipato ad un presidio contro il certificato verde. al grido di libertà, libertà di scelta e no discriminazioni. La manifestazione inizialmente doveva essere un corteo, ma poi, per stessa decisione degli organizzatori, è diventato un presidio statico. Al momento non si registrano tensioni né problemi di ordine pubblico. Nessun incidente neanche a Roma, dove un gruppo di manifestanti ha provato a bloccare il traffico nella zona di Porta Maggiore. La polizia è intervenuta prontamente. La mobilitazione generale degli apparati di controllo durerà per tutto il giorno. Il capo della polizia, Lamberto Giannini, è inviato a prefetti e questori una circolare nella quale si raccomanda vigilanza e tutela preventiva nell'ipotesi di un ulteriore inasprimento dei toni, con possibili azioni contro obiettivi a rischio sul territorio nazionale. A Roma più di 3.000 agenti vigileranno sulla manifestazione delle associazioni No Green Pass. La manifestazione è stata spostata al Circo Massimo per motivi di sicurezza. È prevista la partecipazione di almeno 2.000 persone. Non si fermano le indagini sui fatti di sabato 9 ottobre, mentre sulla violenta irruzione nella sede CGL di Roma, il GIP di Roma Annalisa Marzano, dopo gli interrogatori di garanzia, ha confermato l'arresto a carico dei leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, dell'ex NAR Luigi Aronica, della militante di estrema destra Pamela Testa, del ristoratore Passaro di Io Apro e di Salvatore Lubrano, per i reati che vanno dalla devastazione, alzaccheggia, all'istigazione alla violenza, alla violazione del domicilio. I primi tre sono accusati anche di istigazione a delinquere. Distruggevano non solo tutto ciò che trovavano lungo il percorso, ma si recavano appositamente nei diversi locali per devastarne gli ambienti, ha scritto nell'ordinanza il GIP. Argomenti che dividono la stessa maggioranza di governo. In ogni caso Palazzo Chigi appare determinato ad andare avanti sulla sua strada. Certo, sono sempre possibili piccoli aggiustamenti in merito alle misure di contenimento, al Green Pass, ai tamponi, però è assolutamente giusto andare avanti per la presidenza del Consiglio perché bisogna mettere in sicurezza la ripresa in un momento in cui la crescita appare più sostenuta di quanto previsto. Arriveranno nelle prossime ore le valutazioni della politica sul primo giorno di obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro. Sembrano smentiti i scenari apocalittici che pure erano circolate alla vigilia, ma i conti di eventuali disagi e problemi si faranno più in là. Il governo mantiene la sua linea, nessuno slittamento, nessun cedimento alla richiesta di tamponi gratis. Cheppure arriva anche dall'interno della maggioranza, Lega e Cinque Stelle. Siamo per la libertà di scelta, vogliamo semplificare la vita delle persone, insiste Salvini. Suonerebbe come un condono agli evasori, ha chiuso la porta al PD di Enrico Letta. Il Green Pass è una misura indispensabile a difesa della libertà e dei diritti di tutti, e sulla stessa linea Silvio Berlusconi. La valutazione di Palazzo Chigi è che la vaccinazione è un successo, siamo a ben oltre l'80%. La riapertura delle scuole non ha portato problemi. Il Green Pass, che ha aumentato il ritmo di vaccini e tamponi, aumenterà la sicurezza. Ed è a favore della misura la stragrande maggioranza degli italiani. Sotto il segno del pragmatismo si valuterà l'applicazione delle norme. Forse si potrà intervenire con un credito d'imposta per le imprese che garantiscono i tamponi ai lavoratori. Ne hanno parlato ieri Draghi e Landini. Ma c'è comunque preoccupazione per la prova delle piazze non passa di oggi e sindacali di domani a Roma dopo il sabato nero della capitale con l'assalto fascista alla sede CGL. Episodi di tensione si registrano con i vandalismi e le scritte minacciose a firma Brigate Rosse apparse nella sede del comitato del candidato sindaco del centrodestra Michetti a Roma. Campagna d'odio contro Fratelli d'Italia, protesta Giorgia Meloni, che parla ancora di strategia di retenzione e tentativo di delegittimare la destra. Condanna e solidarietà arrivano da Letta e Gualtieri. Salvini intanto ripete che è di parte la manifestazione sindacale di domani. Bisogna parlare a tutti contro gli estremismi senza andare in guerra. Sarà una piazza dalla parte della Costituzione, replicano dal PD, dalla libertà nata antifascista e che vuole restare tale e ci resterà. E quanta gente parteciperà domani a questa manifestazione lo sapremo. In giornata intanto vediamo qual è il quadro dei dati del Covid che verranno più precisamente forniti tra poco dal Ministero della Salute. Si parla del monitoraggio settimanale. Sicuramente già sappiamo che 8 italiani su 10 sono vaccinati e che tanti altri si stanno affrettando a farlo per evitare di dover fare necessariamente continui tamponi per andare al lavoro. L'obbligo del Green Pass per i lavoratori ha portato ad una nuova crescita delle vaccinazioni. Ieri sono state somministrate 67.000 prime dosi. Nell'ultimo mese, ha comunicato la struttura del commissario straordinario Figliuolo, sarebbero cresciute del 46% rispetto al tren previsto. Numeri che hanno contribuito al superamento dell'80% della popolazione immunizzata. I dati sulla situazione sanitaria e contagi dovuti al Covid restano incoraggianti. Il quadro dettagliato verrà illustrato nel pomeriggio, ma dalle anticipazioni del monitoraggio del Ministero della Salute si può vedere che diminuiscono i nuovi casi di Covid-19 e aumenta la capacità di tracciamento. Però il virus diventa ancora più contagioso. La variante Delta, dominante nell'intera Unione Europea, rappresenta la quasi totalità dei casi in Italia. Per questo, dice l'Istituto Superiore di Sanità, è necessaria più che mai la copertura con l'antidoto. Il completamento del ciclo vaccinale e il mantenimento di un'elevata risposta immunitaria, soprattutto nelle categorie a rischio, sono gli strumenti principali per impedire nuove recrudescenze del virus. L'indice di trasmissibilità RT è allo 0,85. La settimana scorsa era allo 0,83. La contagiosità del virus si mantiene quindi sotto la soglia pandemica, ma in lieve aumento. Mentre l'incidenza settimanale a livello nazionale diminuisce ancora e passa dai 34 casi positivi per 100.000 abitanti dello scorso monitoraggio agli attuali 29. In questa fase, più di una positività su tre viene rilevata attraverso l'attività di tracciamento dei contatti e quasi la metà dei nuovi contagiati viene invece identificata attraverso la comparsa dei sintomi. L'Istituto Superiore di Sanità riferisce un calo generale della presenza di pazienti Covid negli ospedali. In terapia intensiva la percentuale dei letti occupati è del 4,1%. Nei reparti ordinari invece il tasso di occupazione scende al 4,6% rispetto al 5% della scorsa settimana. Dalla bozza risulta che tre regioni sono a rischio moderato, Marche, Molise e Val d'Aosta. La settimana scorsa erano quattro, tutte le altre sono a rischio basso. A Genova in tribunale è il giorno dell'udienza preliminare per il processo sul crollo del ponte Morandi. I familiari esigono di sapere di chi sono le responsabilità di una tragedia che poteva e doveva essere evitata. Però le questioni procedurali mostrano già da subito una strada davvero in salita. Quello che vi avevamo anticipato nel Tg delle eventi di martedì sera è effettivamente successo. Gli avvocati dei principali imputati del processo sul crollo del ponte Morandi hanno presentato alla Corte di Appello di Genova la richiesta di ricusazione del GUP Paola Fagioni. I legali, che non hanno voluto rilasciare dichiarazione dell'entrata in tribunale, hanno presentato l'istanza perché secondo loro il giudice avrebbe già espresso un giudizio sul procedimento del ponte Morandi nell'ordinanza per le misure nei confronti dei sei indagati nell'inchiesta sulle barriere fonossorbenti. La prima di una direttante mossa è per allungare i tempi? Probabilmente sì, anche se per il procuratore aggiunto Dovidio questo rischio non si dovrebbe correre. Non sarà questa eventuale stanza di ricusazione che pregiudicherà i tempi di celebrazione. La Corte di Appello, quando anche fosse, insomma deciderà in tempi rapidi, quindi ci sarà un breve slittamento, ma insomma niente di significativo. Non è stata una mattinata facile al Tribunale di Genova, sia perché era la prima giornata dei controlli per il tripass, sia per le tante parti civili che si sono presentate alla prima convocazione dell'udienza preliminare. Ci sono stati anche momenti di tensione con i parenti delle vittime, escluse in un primo momento dall'ingresso per problemi di sovrappolamento nella tensostruttura allestita all'interno del Palazzo di Giustizia e poi sistemate in una saletta parte, anche perché c'è chi è arrivato appositamente da Torre del Greco. Per capire chi ha ucciso mio figlio e perché, e soprattutto che tipo di condanna questo Stato vorrà dare agli assassini. Il vero problema loro è che hanno compiuto un crimine e sono stati scoperti. Il vero problema loro è che anche dopo essere stati scoperti hanno cercato di nascondere tutto per continuare a gestire questa rete autostradale e continuare a portare a casa dei profitti giganteschi. Il Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi cercherà di costituirsi parte civile anche se il GUP dovrà decidere quali delle tanti parti civili ammettere all'udienza in quella che si preannuncia una giornata lunga, qui al Tribunale di Genova. Un procedimento in cui il Governo e il Ministero dei Trasporti si sono costituiti parte civile, Palazzo Chigi che si è costituito parte civile anche nel processo per l'omicidio al Cairo di Giulio Reggeni, un processo però che si è bloccato ancora prima di cominciare. Al termine di una giornata estenuante la famiglia Reggeni affida la sua amarezza all'Avvocato Ballerini. Ha vinto la prepotenza egiziana ma è solo una battuta d'arresto, andiamo avanti. Chissà però quanto avanti si potrà andare, la strada appare bloccata. Ieri sera dopo cinque ore di Camera di Consiglio la lettura dell'ordinanza è stata lunghissima e fin dalle prime pagine si è capito dove sarebbe andato a parare il Presidente della terza sezione della Corte d'Assise di Roma. Antonella Capri ha riassunto gli indici sintomatici delineati dal GUP Balestriere a maggio e fatti propri dal PM Colaiocco per sostenere la tesi dell'accusa e ha spiegato che non sono sufficienti. In verità i suddetti elementi pur congiuntemente considerati non possono all'evidenza sorgere al rango di una prova certa della conoscenza da parte degli imputati della pendenza di un processo a loro cargo nei termini imposti dal quadro costituzionale e convenzionale sopradiscritti indispensabili ai fini della dichiarazione di assenza. Dunque, ha ripetuto con chiarezza la Corte, non vi è certezza che gli imputati sapessero né che si siano volontariamente sottratti al processo. E così, quando si è arrivati alla fine, con il Presidente che ha ordinato il rinvio degli atti al GUP, nessuno si è meravigliato. Il giudice delle udienze preliminari dovrà riprendere a cercare con ogni mezzo i quattro alti ufficiali della National Security accusati dalla Procura di Roma di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Reggeni. Per l'accusa, che ha passato quasi sei anni a cercare prove rimbalzando con ostinazione contro il muro di gomma egiziano, è un colpo. La Procura, ora alle mani legate, diventa spettatrice del contrasto tra corte rassise e GUP senza poter più agire. Si muoverà il giudice Balestrieri inoltrando all'Egitto una nuova rogatoria e spetterà alla politica premere per ottenere le risposte mai arrivate. Sono rimasti in evasi 39 dei 64 quesiti rogatoriali inviati alla Procura Generale d'Egitto. Ascoltato dal capo della Procura di Roma Prestipino e da Colaiocco, l'ex Premier Conte lunedì scorso ha raccontato le ripetute sollecitazioni al Presidente egiziano Al-Sisi. A gennaio 2020 al Cairo richiamai la sua attenzione sull'importanza che l'Italia riponeva in questa collaborazione, ribadendo che il ripristino dei rapporti bilaterali nella loro pienezza e intensità passava necessariamente attraverso l'impegno delle autorità egiziane e in particolare attraverso la collaborazione tra gli uffici giudiziari italiani ed egiziani. Tutto inutile. Invece è arrivata una prima condanna in un processo penale per caporalato sui rider a Milano. Una condanna relativa all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro dei ciclofattorini del servizio Uber Eats. Il Gup De Pascale ha condannato dunque a tre anni e otto mesi Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell'inchiesta del PM Paolo Storari che aveva portato pure al commissoriamento della filiale italiana di Uber, revocato a marzo dai giudici dopo il riconoscimento del percorso virtuoso intrapreso dalla società. Il Gup ha anche deciso di convertire il sequestro di circa 500 mila euro in contanti disposto nelle indagini in un risarcimento da 10 mila euro a testa per i 44 fattorini parti civili e da 20 mila euro per la CGL. E oggi è anche un giorno importante a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri infatti vara un importante decreto che contiene sia misure fiscali, sia il rifinanziamento della cassa integrazione da Covid e anche misure di sicurezza più stringenti per la sicurezza sul lavoro. È un maxidecreto di una ventina di articoli, di fatto un anticipo della prossima manovra, la prima firma Draghi, quello approvato questa mattina a Palazzo Chigi con uno slittamento però della riunione del Consiglio dei Ministri, prevista inizialmente per le 11 e rinviata per un confronto con le regioni sulle norme che riguardano la sicurezza sul lavoro, tra quelle illustrate ieri dal Premier ai sindacati. Nel decreto compaiono misure per dare ossigeno a lavoratori, imprese e famiglie come il rifinanziamento per altre 13 settimane dei congedi e della cassa Covid, 200 milioni per il reddito di cittadinanza fino a fine anno e anche un fondo per coprire la cassa integrazione di Alitalia per l'anno prossimo. Nel testo anche una stretta sul lavoro nero. In presenza di lavoratori irregolari e di violazioni delle norme di sicurezza scatterà la sospensione delle attività, ma non degli stipendi, fino a quando l'azienda non si rimette in regola. Previsto anche un rafforzamento dell'ispettorato del lavoro che lavorerà con Inail Regioni Asle e proprio sul ruolo previsto per l'ispettorato nazionale del lavoro rispetto alle Asle si è incentrato il confronto con le regioni questa mattina. Un pacchetto lavoro dunque molto corposo anche per scongiurare licenziamenti con l'attesa norma per equiparare di nuovo la quarantena alla malattia. Un fondo di 800 milioni garantirà fino al 31 dicembre l'indennità per i lavoratori in quarantena e dovrebbe essere anche rinnovato il congedo al 50% per i lavoratori con figli minori di 14 anni in quarantena o in didattica a distanza. Sul fronte fiscale invece è atteso un nuovo intervento sulle cartelle esattoriali congelate per la pandemia e per le quali è ripartito l'invio delle notifiche da settembre sarà prevista una dilazione di 5 mesi dei pagamenti. E poi l'eco bonus per l'acquisto di auto elettriche meno inquinanti e anche una norma per rafforzare la sicurezza al G20 di fine mese a Roma con 400 militari in più. Non è all'ordine del giorno di oggi invece il documento programmatico di bilancio con la griglia della manovra da inviare a Bruxelles. Il termine del 15 ottobre non è perentorio e l'esecutivo dovrebbe licenziarlo in una successiva riunione del governo, forse lunedì. Ad agosto la Banca d'Italia ha registrato un nuovo record negativo del nostro debito pubblico che è salito in un mese di altri 8 miliardi e mezzo toccando la cifra di 2.734 miliardi e 400 milioni di euro. Un dato che include il prefinanziamento dei prestiti del Recovery Fund europeo per 15 miliardi e 900 milioni di euro. Si chiamerà Iterways, la nuova compagnia di bandiera che è stata inaugurata oggi durante una conferenza stampa del suo amministratore delegato. Il primo volo, il nuovo nome, Livrea e Divise Vecchie. Iterways ha esordito alle 6.20 con un Milano-Bari arrivato con qualche minuto di anticipo alle 7.35. Era targato a Z, codice appartenuto ad Alitalia e da oggi con il marchio passato ad Iter. Dopo la prima asta andata deserta, infatti il prezzo del logo e di tutto quello che si porta dietro è sceso di ben 200 milioni. Con 90 è stato riportato a casa con i simboli e i codici della vecchia compagnia di bandiera. La nuova ha dovuto tagliare i legami col passato turbolente fallito di Alitalia ma ne ha così salvato Livrea e Simboli. Oggi i viaggiatori avrebbero potuto non accorgersi della differenza se non fosse stato per gli annunci del comandante e delle carte d'imbarco che qualcuno conserverà come ricordo. Ma col 2022 cambierà tutto. I 52 aerei di Iter Airways saranno completamente azzurri col timone di coda tricolore. L'amministratore delegato Fabio Lazzerini ha definito la nuova compagnia aerea una start-up che pur guardando ad un importante passato si proietta nel futuro e per questo è stato acquistato il vecchio marchio, un patrimonio da salvaguardare. Oggi mentre Iter Airways esordiva nei cieli italiani a Fiumicino davanti al Terminal 1 presidiato dalla polizia continuavano le proteste dei lavoratori della vecchia compagnia. La nuova ne ha infatti lasciati a casa più di 7.500 assumendone 2.800 senza contratto nazionale del trasporto aereo. Ai vertici che questa mattina hanno presentato Iter Airways i lavoratori continuano a chiedere risposte sulle future assunzioni sulle applicazioni contrattuali, garanzie su manutenzione e gestione bagagli. Mi rammarico di non essere arrivato a questa giornata con un accordo con i sindacati ha detto il Presidente Altavilla ma confidiamo di tornare presto al tavolo per ridefinire gli accordi. Intanto questa mattina sono cominciati i voli di continuità territoriali quelli cioè che collegano la Sardegna con Roma e Milano ma a gestirli sarà la spagnola Volotea che se le ha giudicati per i prossimi sette mesi. Le prime risposte per i lavoratori stanno cominciando ad arrivare da Ita che comunica nel 2022 il personale di Ita crescerà di mille unità per arrivare a 5.750 persone nel 2025. Ricordiamo che attualmente la compagnia è composta da 2.800 dipendenti di cui 1.250 di staff e 1.550 è il personale navigante. Ora allarghiamo un attimo l'orizzonte all'Europa, la Germania in particolare perché a poco meno di un mese dalle elezioni socialdemocratici, verdi e liberali hanno annunciato poco fa il raggiungimento di una intesa preliminare sulla strada per la formazione del primo governo dell'era post-Merkel. Un documento comune è stato sottoscritto, un documento che formerà ora la base per le trattative che continueranno naturalmente nei prossimi giorni. Ora il Libano, un paese devastato da una terribile crisi economica e sociale. Cecchini aprono il fuoco sulle persone in strada. Ieri in un Libano nel quale si manifesta continuamente per le ristrettezze legate ad una crisi economica profondissima, in piazza c'erano gli usciti di Hezbollah, filo iraniani e quelli di Amal, filo siriani, che protestavano contro il giudice al quale ha affidata l'inchiesta sulla devastante esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, nella quale sono morte 215 persone e che da tempo ha puntato il dito e cerca di far testimoniare alcuni esponenti di queste due formazioni. Quello che è successo durante il corteo ha riportato il paese crogiolo di religioni agli anni della sanguinosa guerra civile che ha devastato la terra dei Cedri dal 1975 al 1990. I miliziani sciti hanno risposto al fuoco il quartiere di Tayunè, lo stesso dove una volta correva proprio la linea di scontro tra sciti e cristiani si è trasformato in un campo di battaglia con l'impiego anche di ranciarazzi. Il bilancio è di sette morti, tra cui una ragazza colpita in casa alla testa. Accusati di avere cominciato lo scontro sparando dai palazzi, i cristiano maroniti ma il gruppo, spaccato in molte fazioni alcune più dure, nega con convinzione. La guerriglia a vecchia maniera è stata soffocata solo con l'intervento dell'esercito che ha arrestato diverse persone, tra cui un siriano immediati di appelli da tutto il mondo dagli Stati Uniti alla Russia, dall'Iran alle Nazioni Unite ad abbassare la tensione ed evitare azioni sconsiderate. Il presidente Aoun, generale di vecchio corso durante la guerra civile esponente moderato dell'ala cristiano maronita ma capace di alleanze sia con Nezbollah che con le forze filosiriane di Amal ha invitato le molte fazioni libanesi a non risolvere i problemi con le armi ma attraverso la via costituzionale promettendo un'inchiesta sull'accaduto e minacciando di reprimere con forza ogni tentativo violento. Continua feroce in Israele la battaglia per la custodia del piccolo Eitan. L'ultima notizia è che Etipeleg Cohen, la nonna paterna del bambino ha denunciato alla polizia di Tel Aviv Aya Biran, la zia paterna del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e sua affidataria. Lo ha riferito la televisione numero 12 secondo cui la denuncia si riferisce all'uso illegale di cellulari ritrovati nell'abitazione dei genitori di Eitan morti sul Mottarone e anche al furto di gioielli, iPad, macchine fotografiche e l'uso illegale dei contenuti del computer nella causa in corso in Israele. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ritorno vedremo notizie sportive e forse se ci sono degli aggiornamenti. Ripartiamo con il campionato di calcio che torna domani in campo con tre anticipi della nona giornata all'Olimpico. La Lazio di Sarri ospita l'Inter di Inzaghi. Cinque giornate di campionato da domani al 7 novembre e in mezzo due turni di Coppe Europee. Una prova di resistenza resa ancor più complessa dalle contingenze infermieristiche. Non c'è Big della Serie A che non si ha le prese con problemi di formazione tra rientri last minute, infortuni rimediati e covid imperante. Nel primo big match della nona tornata, Lazio-Inter con il primo ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico da avversario, i nerazzurri terzi in graduatoria a quattro punti dal Napoli capo classifica, domani dovranno sperare che la melatonina compia miracoli per mantenere Lautaro fresco e pronto come si è fatto trovare in maglia albiceleste ieri rete decisiva contro il Perù dopo il gol contro l'Uruguay. Stesso discorso che vale anche per un altro ex Correa oltre che per gli altri sudamericani di rientro. Al post nazionale si aggiungono poi i problemi legati al covid che ha allentato la presa tanto da consentire la riapertura al 75% degli stadi ma non abbastanza, evidentemente, da evitare che il contagio continui ad essere una minaccia negli spogliatoi. Partendo da Spezia salernitana con i Liguri privi del terzino polacco Reza a causa coronavirus domani sera sarà Pioli contro il Verona dover fare a meno dell'infettato Theo Hernandez. E' buon per il Milan che intanto dall'infermeria si è arrivata a luce verde per il rientro di Ibrahimovic finalmente recuperato come anche cronice Calabria. E scorrendo gli impegni domenicali difficoltà le affronterà per esempio il Napoli che ospita il Verona. Solo oggi rientrano Lozano e Colibali mentre domenica tra i pali andrà Meret per dare un tempo di recupero ad Ospina impegnato nella scorsa notte a blindare lo 0-0 della sua Colombia contro l'Equador. Ma in tema di problematiche assommate difficilmente si può superare il mix della super sfida che chiuderà il turno. Juventus-Roma il big match che tanto dovrà dire sulle reali ambizioni del neo-single Allegri e di Mourinho special one che ritroverà i suoi più speciali nemici calcistici è un percorso ad ostacoli. I bianconeri dovranno rinunciare a Rabiot contagiato con la Francia e tiferanno contro il jet lag per Alex Sandro Danilo e Bentancur anche se Allegri molto realisticamente prepara una Juve molto italiana. Mourinho confida nello staff medico per non essere costretto a rinunciare a Tammy Abrams rientrato con una caviglia malconcia dall'Inghilterra e finora vero totem del tecnico sempre in campo sia in campionato che in Conference League. Partirà dalla Danimarca e passerà anche per il Belgio e la Svizzera il Tour de France di ciclismo la Grand Boucle 2022 tornerà sull'Alpe d'Huez e riaprirà alle donne. Stavolta la novità è all'inizio in un secolo mai si era partiti e nemmeno passati dalla Danimarca che il decimo paese essero ad accogliere la partenza del Tour. Il via da Copenhagen il primo luglio la città più ciclabile d'Europa 13 chilometri a cronometro una grande occasione per Filippo Ganna di vestire la prima maglia gialla come Francesco Moser nel 1975. Le altre due tappe danesi saranno per velocisti poi sbarco in Francia dove ci sarà subito da affrontare l'insidioso pavè della Roubaix. La seconda novità è il ritorno del Tour femminile che manca da 12 anni scatterà il 24 luglio sotto la Torre Eiffel nel giorno della conclusione di quello maschile chi vincerà guadagnerà 250.000 euro durerà 8 tappe il Tour maschile si snoderà invece su un tracciato lungo in totale 3.328 chilometri 21 tappe complessive 6 saranno di montagna con 5 arrivi in alta quota 2 le cronometro non solo novità ma anche tanta tradizione ritornano le salite mitiche che mancavano da anni cominciare dall'Alpe Duez in programma il 14 luglio nel giorno della festa nazionale dei francesi 21 tornanti che portano il nome dei vincitori il primo italiano a trionfare fu Coppi poi Gianni Bugno per due volte come Marco Pantani la prima nel 95 e la seconda due anni dopo se c'è uno sport che sa giocare con la memoria quello è il ciclismo e questo Tour sembra disegnato opposta per favorire i ricordi le imprese del passato c'è il mitico Tour Malè dove Gino Bartali ci passò primo nel 38 Coppi nel 49 e Nibali ci costruì la sua impresa più bella c'è anche il Galibier dove Marco Pantani compì il suo numero più grande distaccando Urric vincendo il Tour un'impresa ricordata nel film documentario il migliore che sarà nel sale dal 18 ottobre un film che vuole essere di testimonianza e non di inchiesta al centro c'è il ritratto diverso più intimo dell'uomo Marco Pantani raccontato da chi lo conobbe più da vicino forse il modo più giusto per raccontare una storia che non ha smesso di dividere da una parte il drogato dall'altra la vittima di un complotto letture opposte che hanno finito per offuscare l'immagine vera di un ragazzo fragile che forse ha sbagliato come tanti o forse no ma di sicuro ha pagato ferocemente molto di più di quanto meritasse non ci sono aggiornamenti di rilievo il telegiornale torna alle ore 20 restate con noi perché c'è taga da arrivederci a domani grazie a tutti